la 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 bentornati buonasera a tutti buonasera ragazzi bentornati da mazzo oggi andiamo a presentare un mazzo benvenuti allo zoo quindi anche questo mazzo è benvenuti e di michele di ok sei un po cacato sotto perché l'ultima volta sbagliato anche quella prima non c'è stata quella prima questa è la seconda comunque bando alle ciance no non è vero l'ultima cianciale devo dire ragazzi ricordatevi di mandarci i mazzi su facebook se volete la nostra presentazione quindi se volete introdurre in questa rubrica di ammazza che ammazzo se invece oltre lo screen potete mandarci anche la lista del mazzo completa così noi la importiamo direttamente sulla sulla donna oppure su addirittura la donna integrata nel gioco quindi facciamo un po prima a importarli perché siamo pigri oppure possiamo come al solito perché dartilus come sono tutti quelli che il gruppo è blando se non lo dire in giro sono blando per colpa di zuccheri ah già perché durante una cena molto sana questo è il mazzo e verrà a comprare acqua sotto adesso vero vero diciamo che comprare acqua sotto durante la partita andiamo a provarlo subito non ho ancora fatto una partita in in il ladder normale quindi si prova mentre si prova il buon che la tara ci dirà perché vi spiego perché i suoi rifanno bene allora praticamente eravamo a cena io e dartilus stasera una cena molto sana sono a dieta come si può ben vedere e quindi è bello perché sono bene deve essere a dieta e praticamente dopo aver mangiato molto bene che co e poco e poco e che scusate dartilus si è chiesto che si ricordava una cosa riguardo i zuccheri che facevano male come i zuccheri fanno male che lo sanno tutti gli zuccheri fanno bene fanno bene al cervello bene la ricerca di oxford perché tutte le ricerche che vengono fatte su queste cose che fanno male le fa oxford perché oxford ci odia con tutta la stessa perché non sanno vivere esatto perché sono inglesi sono tutti che oxford d'inghilterra devo capire che sta bene mangiare praticamente gli zuccheri a quanto dicono ti rendono scemo questa spiegazione è ottima è ottima e lo spiegavano così diminuiscono le capacità cognitive e quindi praticamente schemoniche di qualsiasi di qualsiasi tua fonte quindi un triordineose è un capisce un cazzo e quindi sappiamo perché che è così non ce la farò mai di dartilus io non l'ho mai chiamato dartilus in vita mia non ce la farei mai ma questa non ha importanza e a quanto pare anche questo il nostro avversario ha mangiato tanto zucchero in vita sua perché è ritardato e soprattutto lento lui traderà pingherà noi guarderemo il cielo dicendo ti ho tradato una creatura no invece no spara due danni in faccia e si parla anche il culo io poi e poi lo pompo anche secondo me fallo 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 si fallo ma perché aspetta te ora metteresti il meta lupo per far diventare un 2 1 di creatura per spaccaglielo 0 2 fine stavo pensando di giocare questo te lo scopiare il turno dopo con questo si non attacca faccia però intanto gli leggo un pipotto e il 2 1 non gli rimane e lo avrei messo sull'uovo che perlomeno può attaccare e potrebbe spaccarlo facilmente no l'uovo è un sacrificio l'uovo è un sacrificio vabbè il luptero se non mi sbaglio questo mazzo non ha incantesimi quindi è completamente full creatura non sai che probabilmente hai ragione quindi no no c'era qualcosa spirale tale mi ricordo una spirale tale c'è michele d ha pensato bene di chiamarlo benvenuti allo zoo un nome di fantasia estrema oh guarda che culo quindi è momento di mettere un bel giganto dinosauro in miniatura e lui continua a fare face to face non cazzo che faccio quello lo sai invece lo faccio così lui ora ce lo pecorizza eccolo li ha buttato via il 5 5 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 così non ci puoi pecorizzare ti pecorizza 5 5 questi cazzi paura eh vabbè no non stiamo sfruttando il lanciatore di coltali in questa partita perchè siamo persone no perchè in realtà abbiamo giocato il kart a parte con un costo abbastanza elevato se non facevamo così ci sbragio la faccia e continuo ad attaccarci in faccia perchè è giusto così però ha quasi finito le carte quindi tolte quelle li gli resta più poco quindi potenzia anzi lanciatore di coltelli no lanciatore di coltelli e poi giochi ma non vado difensivo se gioco lanciatore di coltelli lo devo per forza clearare il board infatti devi clearare il board se faccio così posso andare tutto faccia e inizia a pensare di fare del danno poi lui con uno te lo scoppia e poi basta che ti entri con due e ti sparassi da anni in faccia e hai perso sei una persona antipatico sono una persona che prende meno zuccheri non stasera però ragazzi scusate è molto rischio da questa cosa ma prima prima dai più uno più uno si perchè se male ti scoppio c'altro uno a te dici lo vado su certo per certo vedi gli zuccheri hanno fatto qualcosa di buono per un istante su un pezzo non in faccia che cosa faceva il suo rantro di morte? dava una spada a caso in mano quella che ci ucciderà perchè in teoria lo zoo dovrebbe essere un mazzo molto a favore tempo ma quello è stato per noi contro una criatura due otto allora che possiamo fare più quattro più due sei giochiamo il potenziamento di tutto su quelli li? si per forza sui più grossi in mezzo ai più grossi e poi potenzi sperando che vada di sopra che potenzi allora sei più uno sette no allora li possiamo fare cinque tre va bene potenzia il sei quattro e diventa un sette cinque poi quel cinque tre e il tre tre cinque sopra grazie ah te ti speravi di fare così? si ti va bene? ah per favore di Dio se c'ha una blizzard siamo fottuti ancora se la va a pescare la blizzard guarda come non gli viene guardalo ci fa tutte le magie del mondo e non gli è venuta cosa farà? distrugge la criatura attacca col 2 e 1 in faccia e poi giochi tutto ecco perché? non ti preoccupare abbiamo vinto sono ah brutto bastardo lo evoca col 3 e 3? questo non lo sapevo questo non lo sapevo nemmeno io che lo evocava potenziato brutto sono un pezzo di popò quanti danni sono? 7 9 sono 11 11 12 13 14 15 20 abbiamo vinto ora che abbiamo vinto sì sì anche se non fosse per quel danno magico no per questo metalu lo so hai ricontato i lanciatori coltari ma doveva andare per forza esatto non so perché ha detto così con certezza insomma Michele di ne facciamo un'altra a questo punto ah sì ecco quell'altro poveraccio di Matteo P come si chiamava quell'altro Matteo P M Merlo e non era Matteo M era Davide Andrea M Andrea M che io l'ho chiamato Matteo Matteo P no era Matteo D non mi ricordo fatto sta che con lui solo una prova con un mazzo che sembrava veramente bellino invece alla fine che ecco giochiamo contro il principe Artas ci fa un culo qua tutto il mio rispetto diventa diventa l'itch king senti questo bel rumore di ahhhh turu 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 no nooo oddio mono 3 2 che poi la potenza il secondo turno se lui non gioca niente gioco lanciatori primo turno bella cagata io invece condivido la tua scelta perché il secondo turno ti dirige due creature passa l'hai detto passa l'ho detto dai lo faccio lo faccio lo faccio lo faccio lo faccio lo faccio e lui bam subito qualcosa per scoppiartelo certo non c'ha niente il paladino per scoppiartelo arma la burax è andata al paladino lo sai che la nerfano si l'ho visto costa di più 3 inutile è bello quando ci clicca dai però poteva non cambiare anche qualcos'altro tipo di uno e due uguale vediamo se con uno ci tira lui non è importanza invece si che è importanza qui gli dobbiamo dare un bel 3 più 3 più 0 non è importanza potenzio poi il lanciatore per elevarlo a consacration guardate come si sorrenda fa 3 2 1 allora il secondo turno ho giocato quello quindi non potrò giocarlo almeno che non abbia un certo un mana quindi ah no no scusa pensavo fosse il secondo turno guardavo il mio di mana e beh no si no eh io direi lui non giocare lui sul town però si va bene cosa farà cosa farà quel il come come si no scopgliela eh eh vedi eh beh resta giù per forza di cose adesso provi il prossimo turno per giocare a Argus e lo giochi su? è quello volevo giocare a questo per poi giocare a Argus allora prima che lo prenda ciao lanciatore dici direi sicuro in realtà è causato a mente tanti quei problemi paura lanciatore uh no perché ah ti dici perché per almeno dopo ci gioco ok vabbè questo qua mi ammazza una creatura mi rimane un'altra che comunque è più forte questo un po' più inutile dopo giocavo questo capisci si si no condivido mettilo a destra perché perché se lui ti attaccava in faccia non ti attaccava proprio una creatura no un amico lo costringo ad attaccarmi metta lupo si ma potete mettere sul 4-2 sull'1-3 potete mettere la provocazione lo costringo ad attaccare metta lupo non è più scontato che gli altri giocano come dico io giocano come ti ci temo bank e è quello che succede guarda un po' guarda un po' che schifo guarda la provocazione su entrambi tanto ormai lui è giunto il momento 3-1-1 te lo stoppia ti basta che prenda un 3-3 e vai qual'è il problema su quella che serviva non vedo quale sia il problema starà bestemmiandolo qui in 62 lingue ora prende il 4-4 e te lo scoppia eh succede giusto così e invece no però mi rimane vivo non è una bella cosa per lui si ti rimane vivo si quello fa mi viene una carta con provocazione no? si questo potrebbe essere un problema si 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 un turno e mezzo lo gioca addirittura questo cambia un po' le cose c'è un consecration p-1-p1 sto pensando sto pensando ah lui ci prende il p-1-p1 town per forza lo do a lui ma dagli io gli do solo p-1-p1 siamo a 6 quindi gioca tutte e due e fai diventare un 5-5. No, invece lo ha sti cazzi di più 1 più 1 down. 3 e più 1 più 1 alla fare meno gli scopi provocazione. Qua c'è, qua c'è, qua c'è, qua c'è. Vediamo che si becca un altro più 3 più 3, più 3 più 0. Bene. Forse è meglio di più 1 più 1 down. Se c'è consacration non dramma. Te ne scoppia 1, 2, 3, 4, però te ne rimangono 3. Ok, ma c'è due attacchi. Ecco che ho preso. C'è carica? No, c'è furto vitale. Si cura almeno di 12. Con l'1-1 gli togli lo scudo. Fatto bene, fatto. Con l'1-1 gli togli lo scudo. Si, non è che si cuore i 12 lui. Eh vabbè. Non è che ci possa fare qualcosa. Poi ti mangi lo spawn. Ah no, gioco con lui e ti trato con lui il... Lo faccio subito? Certo. Gli lasciamo un po' di campolino? No, deve morire quello, non si può curare di ulteriori... 18. Cioè, ulteriori 6. Già così è stato tragico per il livello. Peschiamo, qua. Ti mangi il 2-3 e l'1-1. Ma si guarda. Quanta è di base? Il 4 e un 3? Quattro 4. Gli venisse... Doppio attacco. Eh... Tipo. E furtività. Ha rotto il palestino. Più 4 ancora. Non è più. Allora. Il 1-1 lo giochi dopo. L'adattamento. Prima tutti in face. Tanto non puoi fare... Giustamente. Più... 1-1-1. Te c'è il pizzo e tu devi fare... Più... Ma io si sopravvive una creatura che... Perché non l'hai fatta? Esatto. Ti odio. Ti odio tantissimo. Quasi qua ti gioco il più 1-1. No, no. Lo devi giocare dopo. Giocolo dopo... Ah, ho capito. Se gli viene... Vabbè. I momenti. Abbiamo rinquiuto i discorsi. Adesso è quello il problema. Allora. Non ci è mai uscito quello che dà più 4, più 4 collocazione. Non ci sono mai uscite parecchie carte. Però... Però diciamo che alla fine siamo arrivati... Al settimo turno? Anche prima? Anche prima. Forse anche meno. Comunque... È un mazzo zoo che non si smentisce mai. Sembra molto carino per... Almeno per i rank bassi come siamo noi. Siamo all'altezza di Ema. Nessuno sa chi è. Nessuno può capire questa battuta se non Ema. Allora. Cose che non mi piacciono molto. Lui... Perché va in combo solo con... Qui che va in combo? Va in combo con chiunque però... Con lui. Certo. Però per l'appunto devi sacrificare o con lui o con quello che espona l'altro servitore. Con chi è? Con lui. Ma... Certo. Però... Come giustamente fai notare... È un più due più due. Non è un adattamento doppio come quell'altra creatura. Eh... Esatto. Che è un po' diverso. E da metterci al suo posto... In uno zoo. In uno zoo sto pensando... Sciccando le carte. Perché effettivamente... Con le ultime modifiche... Ah... Qui non ci sono spell innanzitutto. Che... Va bene. Non va bene. Non è rimozione di nessun tipo. Fuoco. O metterci un'ombrafuoco. Perché... Magari... Baffate la creatura. E poi... Potete clearare il board avversario. Si. Mi sembra... Una delle poche opzioni... Valide. Oppure... Per lo zoo ci puoi mettere quello lì... Dei servitori. Questo? No. Qual è? Quello che ti fa costare meno i servitori. Ah no, no. Troppo lento. Portale. Troppo lento. Gran parte dei servitori comunque costa già sotto i tre. Non ti... Cioè... Quelli a tre ti costerebbero uno. Va bene. Quelli a due però costano uno. Capisci? Quelli a uno costano uno. Non... Non è... Non è... Concordo con D'Artenus. E... Stavo pensando di metterci qualcos'altro. Ovviamente più in alto andate di costo... Il provocatore lì. Guardiano della pece. Scusami. Questo? Si. Perché è un 4-7 nel turno dell'avversario. Ma non va nella tua meccanica a fare trade a tuo vantaggio. Nel tuo turno. Ok. Quindi del... Giusto giusto se volete metterci questo. Per rimuovarci un taunt. Oppure metterci un silence. Un gufetto. Il 4-3 che costa 4. Perché... Per me non avete un removal nel... Anche la leggendaria gente. Questo è un mazzo... Non... Non... Non dispendioso eh. Questo zoo. Non c'è neanche una leggendaria. Non c'è neanche una leggendaria. Ci sono... Neanche un'epica. Infatti... È stato un mazzo bello proprio perché è alla porta di tutti. Quindi... Per rimanere in tema dai. Facciamo solo quella modifica e volendo metteremoci un silence. Un silence o il leggendario che è il cavaliere nero. Che scoppia in provocazione. Rimane sull'economico. Sull'economico. Sì neanche un'epica. Vabbè. Quindi o l'ombra fuoco o il silence o tutte e due. Ma hai la scelta. Per punti d'esa. Punti d'esa. Eh... Io direi... Tre. Perché è un mazzo che potete arrancarci fino a quindici, dodici, senza troppi problemi. Eh... Non costa niente. Quindi ci può giocare chiunque. È un'ottimo... Un'ottimo diciamo... Un'ottima startup per... Per chi inizia a giocare a Airstone adesso. E oltre non si può andare perché comunque probabilmente viene stompato facilmente a più alti. Grazie di averci seguito. Ricordatevi di mandarci i mazzi. Keratara vuoi aggiungere qualcosa? No. Va bene. Ciaone a tutti e ci vediamo in streaming tutti i giorni. Alla prossima. Ciao. Ciao.